Matteo Angioli, che è stato per 15 anni l'assistente storico di Marco Pannella, aveva del materiale inedito perché hanno registrato in video audio tutti gli ultimi 100 giorni. Partendo da questi documenti importanti, abbiamo costruito con la regia di Simona Ventura un documentario che in qualche modo è un fuorionda di Marco Pannella, facendo conoscere un uomo che è esattamente uguale e coerente con il politico. Sono arrivata insieme a Giovanni Terzi che con me ha ideato questa docu, siamo venuti in possesso di alcuni video, alcuni audio, alcuni 100 giorni di video e di audio che Marco Pannella insieme al suo assistente storico Matteo Angioli, alla sua compagna di allora Mirella Parachini e alla moglie, l'ex moglie di Matteo Angioli, Laura Art, ha registrato negli ultimi momenti della sua vita. Questo materiale che era assolutamente inedito l'abbiamo trovato straordinario, quindi abbiamo pensato di montarlo e di farci venire un'idea di format affinché le giovani generazioni e anche chi conosceva Pannella, ma l'ha conosciuto in modo superficiale, come me per esempio, potesse avere un'idea della grande statura politica, del grande statista che è stato Marco Pannella. Pensando anche alle cose che diceva spesso, quando per esempio ripeteva che la vita ha più fantasia del più fantasioso di noi, non mi sarei mai aspettato certamente che un giorno avrei incrociato il percorso di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Marco aveva un interesse sfrenato, inarrestabile per le persone, quindi Simona Ventura credo che sia riuscita a catturare questo aspetto. Marco Pannella è stata una figura fondamentale per questo Parlamento europeo, per l'Italia e per l'Europa tutta. Oggi ricorderemo anche il suo diritto alla conoscenza, che è stato inserito in Consiglio proprio nel 2021 come diritto fondamentale. Conoscere per deliberare, diceva Marco Pannella, forniamo uno strumento al popolo europeo per conoscere le questioni in maniera terza per poi farsi una libera opinione ed è importantissimo essere oggi qui per ricordare Marco.